Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram OneMoreTimePodcast. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Tu sei riconosciuto come il numero uno al mondo in assoluto se sei il numero uno della UFC. E quindi se uno è lì per diventare il numero uno, deve stare in un UFC. E ci sono quelli che invece si andano a compromessi e dicono vado da un'altra parte, mi danno molti più soldi, magari divento campione di quella, comunque divento grosso. Chi se ne frega di essere il numero uno in assoluto, faccio il triplo. Però sono scelte che una persona deve fare, deve capire. Sicuramente quando magari vedi che la tua carriera prende un certo tipo di strada, magari fai così. Io per come sono, no. Io per come sono, se vedo che non posso diventare il numero uno, probabilmente non sono neanche motivato ad andare avanti. Ciao Marvin. Ciao. Chi intervisti? Normalmente non lo dico mai. Marvin Vettori, ovviamente tutta la categoria maschile, cavolo, veramente, il mondo femminile. Ma chi è Marvin Vettori? Quindi oggi umanizziamo il processo e raccontiamo chi sei sin dal principio, quindi prima di diventare un atleta conosciuto a livello mondiale, ma raccontami da piccolino, genitori, famiglia, dove nasci, che infanzia fai e così via. Nasco a Trento nel 1993, il 20 settembre, e niente, cresco a mezzo corona, mio papà e mia mamma tutti e due italiani, anche se poi col tempo sembra che non lo siano, nel senso che ogni volta, anche quando ero a Londra, devo far vedere la carta d'identità per dire che ero italiano, perché non sembro italiano al 100%, però comunque sì, tutti e due italiani. Figlio unico? No, c'è un fratello più piccolo, poi dopo i miei ci sono separati, mio papà si è risposato, c'ho altri due fratellini. Ma non hai mai vissuto con loro? Io ero già post-Londra e praticamente la mia carriera era già iniziata, quindi li vedo, io li considero fratelli al 100%, però li ho visti un po' meno, ovviamente con mio fratello Patrick, mio fratello quello della mia stessa mamma e papà, sono cresciuto assieme, con gli altri due meno. Come si chiamano gli altri due? Adam e Sara. Ok. E quindi nasce a Mezzocorona, a Mezzocorona che posto è? Mezzocorona è in Pianaro Italiana, quindi ai piedi di una valle, che si chiama Val di Non, è un paese molto bello, chiunque di Mezzocorona è super fiero di essere di Mezzocorona, e niente, è un paesino tranquillo, di 5.000 abitanti, sono cresciuto lì, giocando in giro per le strade, sempre in giro, sempre a far cavolate con gli amici, insomma, motorino, ho 14 anni. Come andavi a scuola a 14 anni? Fino alle medie ero un, sembrava che non avessi, cioè completamente istintivo, sembrava che non avessi una testa sopra il collo, e da quando sono andato dai superiori, diciamo che la mente razionale ha cominciato anche, ha cominciato a funzionare anche quella. Ma c'è un avvenimento che ha cambiato il tuo carattere, o è successo semplicemente perché sei maturato? Beh, sì, un pochino magari sono un po' maturato, e poi perché ho rischiato tantissimo, proprio per il rotto della cuffia, di essere bocciato in terza media, ho detto, no, non posso essere bocciato, cioè, non posso perdere tempo nella vita così, mi sono proprio, cioè, mi sono proprio reso conto, perché eravamo rimasti, tipo, eravamo in quattro o cinque che dovevano essere bocciati in terza media, tre o quattro li hanno bocciati, io sono passato, ho visto che, cioè, il fatto che anche quanto li hanno fatto cambiare le scelte che poi hanno fatto, che è rimasto bocciato quell'anno lì, e mi sono detto, volevi evitare, insomma, assolutamente no, chi era il tuo mito quando avevi 13 anni, chi volevi essere da grande? Ma, mi ricordo quello sempre per fare il pompiere, fino a quando avevo 10-12 anni, dopo, sono cresciuto con Goku, l'uomo tigre, insomma, questi cartoni qua, diciamo. Primo sport a che età? Ho sempre fatto sport, facevo calcio, è bello che appunto, ci vedeva che ero più portato per sport individuali, perché non la passavo mai, ero sempre, nella mia testa dicevo, cavolo, se la passo la perdono, quindi devo stare, devo ottenermi, ma poi la perdevo comunque, però nella mia testa pensavo così, e quindi calcio, poi ho fatto nuoto, poi ho fatto atletica, ho fatto sempre sport per quello, cioè, mi ricordo di mio papà, mi ha sempre messo a fare qualsiasi sport, e nulla, quindi sono cresciuto così, e poi, sì, ho votato le medie, insomma, poi alle superiori ho cominciato a pensare un po' di più, e lì poi ho cominciato a, tra le cose, mio papà mi portava in palestra, cioè lui ha sempre fatto uno sport un po' più per giocare, così, tra amici, tipo il karate, no? però mi ci portava in palestra, insomma, e poi dai 14 anni, io stesso l'ho voluta prendere un po' più seriamente, e ho visto che mi piaceva, poi anche in giro facevo sempre un po' di casino, soprattutto dai 15 anni in poi, ho cominciato un po' presto ad andare in giro, che al tempo già si girava 14-15 anni, e... quindi 2008 circa? Sì, cioè, ero sempre un po' nei casini, ma nei casini perché cosa facevi? Cioè magari, già le medie mi portavano a casa, mi portava a casa il vigile del paese ogni volta, per un orecchio, diciamo, mi diceva Valentina, che sarebbe mia mamma, va ti entro a casa e garantirò a fare il matto, insomma. Ma tipo perché facevi a botte? Faceva a botte, fuori da scuola, tutte le volte. A che età hai fatto a botte per la prima volta? Ma seriamente a 15 anni, probabilmente, prima anche, ma prima magari, berle, due rotolamenti per terra, due cavolate, diciamo. Cosa vuol dire seriamente? Qual è la differenza? Una rista, diciamo, come si diceva. Ma con più persone o uno contro uno? No, anche uno contro uno, però... E l'hai prese o... No, no, no. Quasi mai? No, quasi mai. E da lì ti è venuto voglia di dire... No, lì, insomma, è sempre stata un po' una testa calda, dopo dai... Ma provocavi tu? Cioè quando... No, mai. Oddio, poi è sempre una linea sottile, perché tante volte ti puoi girare dall'altra parte e poi risolverla così. Facevi fatica a girarti. Non sono mai stato il bullo, esatto, che se vedevo... Cioè di base, un sacco di volte anche in giro per feste, magari mi intromettevo, ma sempre almeno nei miei occhi, nella mia testa, per difendere, diciamo, almeno... La vittima. La vittima, diciamo. Però sempre... Però avevi anche voglia di far accendere la scintilla. Sì, e poi diciamo che quelle situazioni lì possono sempre essere viste da più parti, però ai miei occhi era così, magari quello che sembrava in svantaggio. E poi dopo, tante volte mi era fatto un po' a nomea ogni volta, da Marvin, è successo un casino di qua, puoi venire? E faccio... Come no? Proprio un po'... Soprattutto a 17 anni è successo un evento dove... Cioè è un po' serio e lì mi sono un po' calmato perché... Me lo racconti? Sì, vabbè, praticamente torniamo da una festa, saranno le 4, le 5 di mattina, davanti a un paninaro, e niente, c'è tutta una serie di... Erano uomini, io avevo 17 anni, non avranno avuto una trentina. E niente, ero con un gruppo, loro erano con un gruppo, molti di più di noi, e praticamente cominciamo a discutere, perché quest'altro ci metteva un sacco di tempo per prendere sto panino, ero ubriaco marcio, e si prende con un mio amico, no? Poi mi metto in mezzo, quindi ci prendiamo io quest'altro, e niente, cioè l'ho menato così duro, così duro che gli altri sono stati fermi, infatti, quella buona mia regola, nel senso, se devi partire, devi partire così cattivo che poi gli altri si fermano quasi, e niente, poi ero stato lì, tanto che mi sono io spaventato, l'ho tirato su io, un tempo un attimo, è arrivata l'ambulanza, Carabinieri, e lì dopo mi sono un po' calmato, perché insomma... Quando è che cominci a imparare la tecnica, a cercare di gestire bene invece questa ira che ti veniva in quei momenti? Poi nel mentre, vedo questi video, che al tempo erano lottatori del Pride, era questa federazione giapponese, che al tempo, soprattutto per i pesi massimi, era anche più grossa della UFC, poi successivamente è stata comprata la UFC, e un lottatore in particolare, che mi ha fatto cliccare qualcosa in testa, era stato Fedor Emiglianenko, che era un russo, che poi aveva anche la pancia, però quando entrava nei match, era di ghiaccio proprio, non esprimeva nessuna emozione, e mi sono detto, cavolo, secondo me questo è il mio sport, nel senso che mi piace tutto, poi mi ricordo che mi sono detto, anche tra me e me, ho detto, qua non ci sono stop, come magari nella box dove vieni contato, o nella kickboxing dove vieni contato, e quindi mi piaceva quello, e poi da allora mi sono allenato, Così intendi dove vieni contato? I punti? Cioè se vai giù nella box, ti contano, in quel senso, 1-2 fino al 10, hai tempo di riprenderti, invece nell'MMA non c'è mai così. Come comincia? Che età comincia ad andare in palestra ad allenarti? Cominci col karate, giusto? Sì, non è il karate, si chiama Yosuke Mbudo, una cosa simile. Comincio così, fino a 15 anni, l'avevo presa un po', cioè in palestra c'ero fin da piccolino, fino dai 10 anni, anche 9 probabilmente, e fino ai 14 l'ho fatta quasi come un gioco. Poi dopo, dai 15 in poi, ho cominciato a fare garete, a prenderla seriamente, e ad allenarmi due volte al giorno. MMA? Sì, l'MMA però è vasta, è un insieme di discipline, cioè io volevo fare quello sport lì, ma non mi ero reso conto nella mia ingenuità che non esisteva praticamente, soprattutto lì nel mio paese, e quindi andavo in 4-5 palestre diverse praticamente, quindi finivo scuola, prendevo il treno, andavo fino a Rovereto, a Rovereto c'era la box, e c'era la lotta libera, la lotta greco-romana, facevo quelle magari, quindi di base, prendevo la mia bicicletta, salivo sul treno, andavo fino a Rovereto, scendevo con la bicicletta, andavo in palestra, mi allenavo là, ritornavo con la bicicletta al treno, salivo, mi fermavo a Trento, che è un'altra stazione in mezzo, mezzo corona a Rovereto, scendevo con la bicicletta, andavo in un'altra palestra, tornavo in bici, risalivo in treno, tornavo indietro. E nell'altra palestra cosa facevi? Magari Brasilia Jiu Jitsu, oppure MMA c'era a Trento, e quindi facevo una e l'altra, poi combattevo di tutte le discipline, e così ho fatto fino alla fine delle superiori, quindi a 18-19 anni, e poi a 19 appena compiuti, ho preso, sono andato a Londra, perché lì mi sono ritrovato davanti ad una scelta, e ho detto, se questo è quello che voglio fare, mi sono reso conto poi, in quel periodo, che dovevo andarmene praticamente, perché il livello, cioè, nella mia testa ho detto, o che vado a Milano, a Roma, o cose del genere, dove comunque il livello, non è altissimo, o piuttosto veramente, faccio il salto, anche perché, io ho sempre voluto anche mantenermi, e non chiedere soldi a nessuno, quindi, mi sono detto, se trovare un lavoro part time, che mi faccia anche, allenare, in Italia è veramente difficile, soprattutto se, di punto in bianco, mi porto a Milano, cioè mi vado a Milano, Londra magari è più internazionale, riesco a fare una cosa del genere, e quindi, ho deciso di andare a Londra. Chi chiede un consiglio del genere? Cioè, tu fai, ma come fai a capire dove andare, e come muoverti, per alzare il livello? Nella mia testa, era tutto chiaro, nella mia ingenuità, cioè, però in palestra, ti avranno detto, vai a Londra, vai in quella palestra, vai a parlare con quella persona? Io mi sono, cercavi, con un altro ragazzo, che per caso, avevo conosciuto, nelle, in garette, che facevo in giro per l'Italia, mi ci siamo detti, ma perché non proviamo ad andare qua, e abbiamo deciso di andare lì, cioè. Tu sapevi e sentivi di essere forte, facevi già risultati? Sì, sì, nella mia testa, io sono sempre stato, convinto, diciamo, quella è sempre stata, un po' la mia, cioè è stata la mia forza, sono stato anche tanto criticato, per questo, poi negli anni, ma, per cosa nello specifico? Perché magari risulto, sono risultato, arrogante, o così, no? Perché, perché dentro di te eri convinto? Esatto, sono stato convinto, sono sempre, magari, ci sono stati dei match, dove ho anche perso, magari, e prima, mi sono sempre posto, come se, sapevo di vincere, no? Cioè, non sono mai stato quello, vedrà come va il match, è molto forte, cioè, nella mia testa, dico, vado su, e lo spacco, capito? Poi magari è bravo, e quindi sono stato criticato per questo, però sì, nella mia testa, nella mia ingenuità, adesso lo dico col seno di poi, sono sempre stato tanto convinto, quindi anche là ho detto, sì, guarda, per fare il salto, devo andare via, ma infatti, cioè, col seno di poi, guardando adesso, avevo ragione, nel senso che, in Italia, non avrei potuto fare quello che ho fatto. quindi 10-11 anni fa, prendi e vai a Londra, cioè, dai la maturità, 18-19, sì, do la maturità, e vai, senza soldi, senza soldi, come stavi messo a livello di soldi, come stavano i tuoi? Ma, mio papà mi ha aiutato i primi mesi, dandomi praticamente, i miei erano separati, e mia mamma prendeva un assegno mensile, no? Per me, e ho detto, ascolta, siccome vado via, quell'assegno lo prendo io per un po', che sarà stato di 500 euro al mese, no? Ti pagavi l'affitto lì? Sì, pagavo l'affitto e tutto quanto, all'inizio io, penso a te, io la prima volta che sono andato a Londra, sono andato una settimana sotto le vacanze di Natale, siamo andati là, i primi di gennaio, e ci siamo allenati, siamo andati là, io e quest'altro ragazzo che avevo conosciuto in queste gare, mi hanno preso un sacco di botte, ci hanno srandellato di legnato, e però mi rendo conto, cioè durante gli allenamenti, durante gli allenamenti, però mi ricordo di essere uscito dalla gabbia, essermi sdraiato sulla materassina, e aver detto, cioè, questo è il posto in cui voglio stare per i prossimi anni, per imparare, perché mi sono reso conto, che il livello era completamente diverso, esatto, e quindi lì era Natale, torno, finisco la maturità, e poi partiamo, in quella settimana lì avevo conosciuto un iraniano, che aveva una camera, a Londra, e lui me l'aveva detto, perché così poteva magari arrotondare, mi fa, guarda, se vuoi venire, mi dai due, trecento euro, e puoi stare sul divano, e ho detto, va bene dai, vado a casa, capisco un po', e vengo, e così ho fatto praticamente, e ma per mangiare tutto, come facevi, lavoravi? No, appena arrivato là, anche lì, sempre nelle mie ingenietà, mi alzavo la mattina, andavo in giro a dare curriculum, e poi dopo conoscendo, e parlavi un po' inglese? No, praticamente, poco poco, un pochino, perché giocavo a qualche gioco online, così, e qualcosina avevo imparato, ma poca roba, poi ho conosciuto un moldavo, che c'era in palestra, anche là, e mi fa, guarda, se vuoi, ti do il brevetto, ti butta fuori, e comincio a fare il butta fuori, e quindi praticamente, ho cominciato a fare il butta fuori, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lavoravo con il butta fuori. E la mattina ti alzavi per andarti a allenare, o lo facevi tarda mattinata? No, vabbè, praticamente, lunedì, martedì, mercoledì, mi allenavo due volte al giorno normale, giovedì, mi allenavo la mattina, il pomeriggio all'inizio, oppure il giovedì, tre volte mi saltava, e poi andavo a lavorare, fino magari alle tre di mattina, quattro, tornavo a casa, dormivo fino a mezzogiorno, e facevo l'altro allenamento, poi ne facevo un altro, magari pomeriggio presto, oppure anche lì mi saltava, e facevo così, praticamente, per gli ultimi quattro giorni della settimana. Però, quando eri a casa tua, in Italia, non facevi due allenamenti al giorno, non riuscivi? Perché andavi a scuola? Beh, però, andavo magari a Roveretto, ritornavo, mi fermavo a Trento, ne facevo due di fila, ok, poi ti rendi conto che, dai 14 ai 18 anni, poi c'hai veramente fatto di gomma, proprio gomma, ai 19, ai 22 pure, e poi dopo comincia a cambiare. Quindi vai a Londra, comincia a guadagnare, fai il butta fuori? Sì, comincia a guadagnare, almeno per mantenermi. E, come si fa a entrare in una palestra? Nel senso, vai in una palestra, paghi, ti iscrivi, ti alleni, o ti devono accettare, perché sono competitive? No, vabbè, tu puoi entrare, cominciare a fare le classi normali, infatti ho fatto così, per un bel due o tre mesi, che nessuno mi aveva notato, insomma, andavo là, però poi hanno visto che ero là, tutto il tempo che potevo essere, ero la metà della giornata, sempre a fare magari tre, quattro classi, ma hanno visto che mi buttavano con tutti, io ero sempre là, e dopo un po' mi fanno, cioè, mi prendevano nelle classi con i pro, no? Però è passato un po' di tempo, quindi all'inizio è stata dura, proprio per quello, perché eri lì, nell'anonimato, e tu volevi farti notare? E certo, cioè, io volevo andare avanti, io magari ho già fatto dei match così, e volevo che mi notassero, per portarmi coi pro, però io ero lì, nell'anonimato, poi era tutto un forse, cioè, la mia carriera, mio papà e mia mamma, che non sapevano cos'erano gli a fare, cioè, nessuno sapeva chi era. Cosa gli dicevi, quando ti chiedevano come andava? Eh, con mia mamma, a mia mamma dicevo sempre, oh benissimo, bello, bello, insomma, invece, dal punto di vista atletico, intendi, sportivo? Ma no, o in generale? No, in generale. Ma loro sapevano che il tuo obiettivo lì, era diventare un fighter professionista? Sì, sì, però, mia mamma mi aveva un po', cioè, non ci credeva tanto, secondo lei, sarei tornato dopo poco, no? E quindi io, l'ho presa un po' sul personale, sta cosa. Era una sfida? Eh, un pochino sì, nel senso che, mi sono detto, non devo tornare, devo dimostrare che ce la farò. esatto, e poi, sia me stesso che a lei, ma, insomma, non potevo mollare, capito? Non, anche perché lì ho veramente preso una decisione, infatti io, cioè, adesso se ci pensi qua a Londra, niente, ci puoi andare tre volte a settimana se vuoi, però a 19 appena fatti, cioè, ho fatto una scelta di vita, cioè, io là lo sapevo che stavo facendo una scelta di vita, perché poi se mi metto qualcosa in testa, non me la toglie nessuno, quindi, cioè, l'avevo elaborata in modo che veramente, quel momento lì in cui sono partito, era un momento cruciale per il resto della mia vita. Come va il tuo amico che è partito con te in quei momenti? Riesce anche lui a farsi notare, o non gliene fregava niente di fare quella roba? lui già, quando io sono partito per stare, lui già, non, non, non mi ha seguito. Tentennava un po', non ti ha seguito. Io sono partito da solo, praticamente. Ok. Io sono proprio partito da solo. Quindi fai un po' di classi, diventi un po' più forte tecnicamente, perché capisci che il livello di prima era un livello molto inferiore, ti notano. Sì. Qual è il primo giorno in cui ti notano? Quanti anni hai e cosa ti chiedono di fare? No, vabbè, poi ti notano, cominci a fare le classi dei pro, e piano piano, insomma, fai sempre con gente più forte. Quando già ti notano, vuol dire che già sei a livello bene o male, cioè, se no, non ti portano male neanche. E poi dopo lì, sempre la tana dei lupi, quegli anni lì mi sono fatto le ossa proprio, perché, perché ero giovane, ma c'avevo voglia, e vabbè, poi appunto, se vedi anche i miei match sono abbastanza duro, come anche fisicamente, e cioè, volava di tutto lì, insomma, però ho sempre fatto il mio, quindi, poi piano piano continuo a migliorare. Ma c'è stata una persona che ti ha preso da parte, un mentore, magari un fighter, e ti ha insegnato delle cose che ti sono servite sempre, o hai dovuto sempre rubare da solo con gli occhi? È esistita questa guida nella tua vita? Ma c'erano due coach, che erano i coach di quella palestra lì, che mi hanno sicuramente insegnato molto, però ecco, nella mia carriera vera e propria, non ho mai avuto un mentore che proprio, insomma, mi ha preso, ti abbia guidato. Perché è un po' difficile anche nell'MMA, essere, solo una persona, fa fatica ad insegnarti tutto, cioè non è come la box, perché è così vasta, perché sono più discipline. È così vasta che è difficile. Poi ci sono certi casi, cioè sicuramente ci sono stati coach che sono stati importantissimi per lo sviluppo del mio modo di combattere, però un mentore che diciamo mi ha preso, ma perché non, per me, sono sempre andato a cercarmi gli allenamenti. Io dico sempre, ho sempre dovuto lavorare per poter lavorare, praticamente. Cioè non è che io mi sono trovato la palestra di fianco a casa, e dici, ah beh, basta che fai due passi, lavori duro. No, io ho sempre dovuto sbattermi per guadagnarmi il lavorare. E sta cosa, alla fine, anche nel lungo termine, è una mia forza, perché... Sei super determinato. Sì, cioè non... Quando c'è da lavorare, come si dice in inglese, always outwork the others, you know? In quegli anni, in cui pativi anche un po' la fama, cioè ti facevi un culo quadrato, era pesante. Mi racconti il momento più brutto che magari ti ha anche fatto pensare che avresti potuto mollare. Il momento più brutto probabilmente è stato che era piena estate, forse il mio primo match da pro, che praticamente mi hanno detto, devi... Perché poi nell'MMA c'è anche tutto il discorso del taglio peso. E infatti dopo una domanda. Che è un bel casino. Comunque, io era il primo match che facevo da welterweight e se ero stato 85 kg, 84, dovevo scendere a 77. Però di nutrizione io non sapevo niente, zero. Cioè, è sempre stato... Sono cresciuto a casa che mia mamma cucinava, mangiavo quello che mangiavo. Quindi non eri in forma fisicamente da ragazzino. Eri più cicciottello? No, quando poi ho cominciato ero già in forma. Però comunque tagliare il peso, cioè da ragazzino era anche un po' cicciottello, ma fino ai 12, 13. Ah, ok, ok. Quando poi avevo 18, 19 anni ero già... Ti sei messo sotto poi. Sì, no, no, poi ero già diciamo in forma. Però comunque sarò girato sui 84, 85 kg e dovevo fare i 77. Che adesso per me sarebbe una passeggiata a fare i 77. Ma allora, cioè, come se adesso ti prendo e ti dico che poi tu magari già qualcosa sai di nutrizione. niente. E ti dico da qua a un mese e mezzo devi perdermi 7-8 kg. E io sono andato in panico, no? Ho cominciato a mangiare riso, pollo e broccoli praticamente sempre tutti i giorni. E diventa tanto pesante perché poi ti rendi conto che sulla dieta la roba che è più pesante è il fatto che magari ti manca la varietà del cibo, no? Che mangi sempre la stessa cosa. Dopo un po' la vomiti quasi. E quindi mi hanno detto questa cosa qua e mi ricordo che tra un allenamento e l'altro ero a casa seduto e dicevo era piena estate ma avevo un euro quindi dove vai? Poi non puoi neanche uscire perché comunque non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi fare niente perché devi fare il peso e dico se fossi a casa poi vedevo su Facebook tutta la gente tutti i miei amici che si divertivano e ero là e dicevo adesso sto facendo la dieta c'è un altro mese davanti per fare il peso nessuno mi sta aiutando nessuno mi sta dicendo nulla per arrivare in peso devo fare il mio primo mezzo di MMA che quindi sono lontanissimo da dove voglio arrivare sono qua da solo nessuno non so neanche chi sia mi sono detto porca puttana e poi nella mia testa dicevo la strada è veramente lunga e se deve essere così per tutto il resto della mia vita cazzo dicevo pesante no? Adesso col seno di poi mi direi pensate adesso e non pensate al futuro fai il massimo in questo momento qua e basta in quel momento lì cazzo ho visto un attimo ho detto veramente voglio continuare a fare sta roba perché non hai mollato? Ti ricordi cosa ti ha dato la forza in quel momento? Qual è il pensiero che ti ha dato la carica? Ma sai che non me lo ricordo adesso come adesso non mi sono mai permesso di mollare nella vita secondo me proprio fuori questione quindi arrivi a 77 kg? Sì sì arrivo a 77 kg faccio il peso e vinco il match e poi vado avanti quindi tu vinci il primo match quindi dici è una bella conferma ho lavorato tanto per quell'obiettivo bella lì ce l'ho fatta ti faccio una domanda sulla pesa perché ti ho visto ieri in un'intervista poi prima l'ho chiesto a una persona a te vicina perché tu hai detto io arrivo per la pesa e arrivo a quell'obiettivo e poi dopo il match posso prendere anche 7, 8, 10 kg in un giorno mi spieghi questo pezzo qui? Sì 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 vabbè al tempo vabbè oggi è seguito dal nutrizionista e tutto quindi ovviamente ma come si fa? Allora si fa che praticamente gli ultimi 6 5, 6 kg si fanno l'ultima settimana e sono praticamente solo liquidi quindi quei liquidi là quando poi ricarichi e riintegri nella maniera giusta dopo il match quelli lì li riprendi subito quindi 6, 7 kg li riprendi subito sono tutto liquidi poi sale carboidrati zuccheri e tutto il resto mangi tanto ovviamente vai anche a prenderti 10 kg 10, 10 kg e mezzo in un giorno? in un giorno perché sono liquidi per il 70% sono liquidi ok e liquidi li reintegri subito ritorniamo al primo incontro lo vinci quindi che decidi di fare? dici diventerò un pro? no vabbè nella mia testa già cavolo sì sì no però questa è che io il primo match da pro l'ho fatto dopo quasi saranno stati 8-9 mesi che ero già a Londra quindi io prima mi hanno fatto fare dei match di amatore così cioè mi hanno fatto fare tutto un percorso il primo incontro da pro che vinci vinci i soldi? poche robe mi ricordo che combattevo in questa federazione a Londra che si chiamava UCMMA addirittura mi sbattevo per vendere un po' di ticket così facendo i ticket grattavo qualcosa sui ticket ma la borsa se non è stata 200 dollari 200 pound qualcosa del genere in totale con i ticket magari portavo a casa 400 500 ok da quel momento in poi come vai avanti? vabbè poi faccio il secondo match faccio il terzo match faccio il quarto match ma secondo terzo quarto subito cioè quanti match si fanno in un anno? a distanza di quando sei così all'inizio poi quando prendi devi continuare a farne quindi uno al mese? no uno al mese no ma uno ogni due o tre mesi ogni due o tre mesi ok li vinci tutti? ne vinco cinque di fila poi faccio per il titolo di quella federazione là e perdo mio papà viene a vedermi è venuto sono venuti anche altri ragazzi da mezza corona a vedermi eccetera e perdo e lì è un altro momento cruciale della mia carriera perché anche là mi casca un po' il mondo addosso diciamo la vita a Londra era pesante pesante perché vita sociale ne avevo veramente poca e comunque un ragazzo di 19-20 anni che sono venuto comunque con mia mamma che bene o male mi ha sempre fatto le robe e quindi ho dovuto imparare un po' tutto in fretta che ci sta col senno di poi è una cosa che o ti rompe o ti forma e sicuramente mi ha formato però era pesante perché lavoravo mi allenavo e dormivo praticamente c'è una vita dove dovevi tirar la corda su tutto non avevo soldi per niente pagavo la metropolitana pagavo l'affitto pagavo da mangiare non c'avevo altro hai vent'anni in quel momento nel periodo di cui mi stai parlando adesso circa e niente lì dico adesso non so che cazzo faccio non ci voglio neanche pensare quando perdi quell'incontro per il titolo e dico adesso per forza devo tornare in Italia dare un attimo un taglio resettare e lì ho anche pensato di mollare per un attimo poi però dopo tre giorni probabilmente mi sono detto mi sono dato lo spec e ho detto cosa devi fare ho fatto così tanta fatica ad arrivare qua sì quello e poi dico cos'è che so fare di altro bene e mi sono detto niente quindi devo per forza se ci penso adesso magari avresti voluto fare tante altre cose ma essere ingenio e non avere avere la testa così non è sbagliato non vedere troppo lontano su tante cose non è sbagliato chi ha tutto chiaro in testa poi tante volte non parte neanche a fare le cose perché ci sono troppe variabili che potrebbero andare storte e quindi sono tornato in palestra sono tornato ad allenarmi poi ho avuto la fortuna anche che hanno fatto un torneo qua in Italia dove praticamente il vincitore poteva vincere 10.000 euro e tutto succedeva in sei mesi perché ci sarebbero stati tre match in sei mesi e quindi ho detto cazzo questa è un'occasione che devo per forza sfruttare mi sono messo dentro e poi dopo ho vinto quello sei tornato a vivere in Italia per allenarti e fare quegli incontri quei sei mesi sono stato in Italia e mi allenavo a Gessata a Milano facevo su e giù magari facevo cinque giorni qua poi tornavo su che la magari tornavo con altri fighter tipo testa a piedi tipo così incastrati quindi a risparmio di brutto per forza sì sì torniamo a casa del mio coach Filippo Stabile anzi lo saluto e niente è tuttora il tuo coach? no 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 fino al mio primo match in UFC c'è stato poi dopo ho cominciato ad andare in America e quindi dopo ci siamo un po' persi però fino ad adesso abbiamo un bel rapporto ok quindi vinci e vinci 10.000 euro e vinco 10.000 euro poco più quindi la somma più grande che hai mai avuto in vita tua assolutamente sì e dopo mi danno un altro avversario che era un avversario internazionale inglese che aveva tanti match e mi dico questo a Londra no 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 ero ancora in Italia ancora in Italia e mi dico che qua secondo me devo fare un altro passo no? e quindi decido anche lì io quando ero a Londra tra le cose faccio un attimo un flashback ero a Londra e sono andato una settimana per fare una gara in America col mio coach di lotta e siamo andati abbiamo conosciuto uno come hai fatto a pagarti la trasferta serie in bolletta? ma anche là abbiamo preso un camper e avevo messo via pochi soldi e con poca roba ho pagato il volo e basta ma il mio coach mi ha anche un po' aiutato ma poi ho cominciato a lavorare anche in palestra insomma poca roba mi ero messo via ma avrò tra tutto una settimana avrò pagato 1200-1300 no? e poi dove non arrivavo via io al mio coach un pochino abbiamo fatto sta gara e nel mentre ho conosciuto quest'altra persona che era un altro fighter che è stata una leggenda dell'MMA l'ho conosciuto lì come si chiama? Renato Sobral che Babalu lo chiamano il suo pronome e lì poi dopo sono restato in contatto e mi fa guarda che io ti consiglierei di andare alla Kings se vuoi allenarti di MMA quindi poi sono tornato a Londra lì poi sono stato altri 6-7 mesi poi sono tornato in Italia e ho vinto questo torneo e poi mi sono detto dopo aver vinto quel torneo che avrei usato quei soldi per prepararmi in America alla palestra che mi aveva detto a lui e quindi ho fatto così praticamente siamo andati là e siamo andati insieme la prima volta insieme stai puntando verso il tuo amico Emanuele anche la roba da matti perché poi siamo andati là dovevamo restare da un suo parente alla fine il tempo un giorno ci hanno buttato fuori perché ci erano detti delle cose ma poi alla fine ci erano capiti male e niente ci siamo trovati a dormire nel McDonald's e sì perché scorcavamo il wifi capito provare tutti i numeri in rubrica per vedere chi vi poteva ospitare esatto e infatti le cose sono strastrane perché poi col seno di poi si sono tutte collegate durante uno dei tornei avevo conosciuto una persona che era di Orange County perché poi la palestra sarebbe stata ad Orange County a Pasadina anzi però vabbè distanza di un'oretta e poi quando ci hanno cacciato ci è venuto in mente che questo ragazzo qua l'ha portato la sua fidanzata a combattere in questo torneo che si chiama Venator e allora insomma scorri tutta la rubrica pensa 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 anche perché io avevo il match in programma ho detto cazzo se se veramente non troviamo nessuno dobbiamo tornare in Italia perché da qualche parte mi avevo preparata insomma ultima risorsa chiamiamo lui e ci ospita a casa sua cioè proprio arriva tipo non so tipo un angelo arriva ci porta a casa sua e tre mesi stiamo lì e ci alleniamo con lui lui poi era una cintura nera anche importante di lotta a terra di Jiu Jitsu e niente quindi ci era tenuto lì ci siamo allenati ho preparato tutto poi sono tornato e ho vinto il match bene contro Jack Mason contro questo avversario inglese hai più o meno 21 anni quando succede questa cosa? sì 21 vinci quel match succede qualcosa nella tua carriera o ancora no? o sei ancora a far fatica? cioè fatica sempre però tiro un po' il fiato adesso se penso adesso i soldi che facevo dico porca trotta non saprei come viverci neanche fino a due mesi però lì ovviamente è tutto a risparmio insomma confronto a prima un po' tiro il fiato un minimo vabbè ci possono anche dire le cifre lì però ho fatto non so 2.500-3.000 match forse tra tutto quel match che tu vinci per cui ti eri preparato tre mesi esatto ok però lì non spendevi niente i tuoi 10.000 avevi speso per il viaggio sì 5-6.000 spesi per il viaggio e Emanuele viene perché il tuo amico era per sarti a fianco sì perché lui è sempre stato il mio preparatore atletico fino a quando ero in Italia quindi viene con me e poi vabbè dopo torniamo vinco il match poi c'era un po' la UFC nell'aria no? pensavamo già che magari dopo quel match lì poteva arrivare la chiamata e invece niente era quello il sogno che l'UFC ti chiamasse? sì è sempre stato quello il sogno sì 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 cioè quello era il primo sogno il primo step vero proprio ma come si fa a farsi notare da loro? devi vincere incontri importanti o ci deve essere qualcuno di quel circuito che ti vede poi ne parla con ma diciamo che c'è sempre qualcuno sono stra informati come si chiama il boss Dana White? Dana White sì ma hanno i matchmaker e poi c'è tanta altra gente che guarda sono belli informati poi sanno le federazioni che sono cioè gli avversari che magari tanti avversari che sono andati fuori magari vengono battuti da altri sono sempre la ricerca di gente nuova diciamo quindi non succede? no non succede e poi però nel mentre appunto quella volta lì in America poi io firmo con un manager che aveva vari atleti in UFC un manager italiano inglese? no americano americano che non era un gran manager se non sto qua a fare nomi però comunque perlomeno aveva era un'entratura in più esatto almeno era qualcosa che non è quello mio attuale quello mio attuale è il numero uno e niente comunque perlomeno mi ricordo che lui mi aveva fatto notare alla UFC però comunque la chiamata non è arrivata quindi poco dopo sempre al Veneto mi offrono un altro match questa volta è uno che è appena uscito dalla UFC aveva vinto due mesi ne aveva persi due era appena uscito dalla UFC io accetto cosa vuol dire uscire dalla UFC? se è la massima come dire federazione e se perdi due o tre mezzo di fila ti buttano fuori ok cioè lì se perdi due mesi di fila male non ti rinnovano il contratto ok per combattere in quella federazione devi avere un contratto in base alle performance che tu hai possono buttarti fuori perché i contratti sono annuali? sono a match a match ah wow è il senso di perdita ogni minuto cioè nel senso che se perdi due mesi di fila sei fuori delle volte c'è anche gente che vince ma vince un po' in maniera cioè che non è come si dice entertaining che non è avvincente il modo di combattere l'Italia non interessa ok quindi era appena uscito e me lo offrono accetto torno a fare il camp in America stavolta da solo però perlomeno qualcosina in più conosco mi organizzo un attimo meglio e anche lì mi ricordo che poi conosco uno in palestra e mi fa vuoi venire con me e praticamente ho dormito anche là sul divano di questi ragazzi messicani però mi sono trovato bene alla fine però anche là ho fatto il match così cioè ho preparato il camp così dormendo su un divano cioè talmente determinato che nulla ti fermava potevi dormire anche per terra in mezzo alla strada l'avresti fatto a prescindere per forza ma no ma poi l'ho fatto in realtà dormire in palestra prima della UFC ancora magari delle volte quei sei mesi che ero qua in Italia andavo in Germania pur di allenarmi magari facevo 10-15 giorni là e dormivo in palestra perché in Germania perché c'erano dei buoni coach perché pur di imparare qualcosa di nuovo magari cercare degli sparring un po' diversi così sono andato anche in Germania un po' di volte combatti contro l'uscente della UFC e vinci convinco bene e lì poi dopo arriva la chiamata subito dopo come arriva la chiamata al tuo manager a te come succede quel momento quel momento succede che sono le 6 di mattina in Italia e arrivo rispondo e mi fa they signed you faccio who you have seen signed you bro faccio cioè insomma ho cominciato a gridare ho svegliato mia mamma e mio fratello e niente è andata così e poi ho detto cazzo top non mi sembrava vero però mi fa però non puoi dirlo perché fino a quando non annunciano il match che farai non annunciano che hai firmato e quindi lo dicevo così magari gli amici stretti ma me lo dovevo tenere dentro sta roba per un mese mese e mezzo quasi eri un volcani in eruzione non vedevi l'ora di dirlo a tutti parti? no non parto perché lì poi si arriva la visa per combattere in america perché io pensavo magari mi faranno combattere in europa invece no mi hanno fatto combattere in america poi in un evento strabello che va alla storia tra uno degli eventi probabilmente più fighi della storia che è Nate Diaz contro McGregor 2 e io aprivo quella card lì a las vegas quindi per me è tutto nuovo assurdo poi ho dovuto fare mille cose per fare il visto arrivo là di velocità praticamente sono riuscito a fare sei settimane o sette all'inamerica comunque mi preparo andiamo a las vegas e vinco il match per sottomissione e anche là diciamo in cima alle stelle cioè probabilmente uno dei uno delle mie vittorie più emozionanti ancora da adesso diciamo ti chiamano parti contratto che valore ha? cioè nel senso ti pagano anche se perdi o ti pagano solo se vinci? no in UFC ti pagano metà solo per combattere metà se vinci e quant'era l'importo di quel match? del primo? i primi contratti sono 10.000 più 10.000 quindi 10.000 per combattere e altri 10 se vinci e ti mantieni tu? in mantenerti tu devi fare tutto tu ti alleni mangi dormi a spese tue e lo devi fare per almeno 6-8 settimane quindi tendenzialmente devi essere bravo a mistra ai soldi sì vinci l'incontro che succede quando lo vinci? cambia qualcosa nella tua vita o sei ancora a sgomitare nella mia testa ero in cima al mondo perché magari le testate piccoline di MMA eri diventato un idolo quanti anni hai quando succede quel momento? 22? sì 22 22 anni e niente sì ero in cima al mondo però in realtà ero ancora all'inizio cosa succede? succede che tendenzialmente ti fermi in America dici la mia vita è qui? no perché poi no facevo avanti e indietro ancora poi dopo ho fatto il secondo match in UFC sono loro che ti chiamano quando ti trovano fondamentalmente l'avversario te lo propongono e tu puoi scegliere o te lo devi far andare bene? io non l'ho mai scegliere come ho detto prima nella mia ingenuità sono sempre era sempre non ho mai detto no a nessuno però anche lì c'è stato un errore di stima anche lì il mio manager era un pochino sbagliato secondo me perché mi ha dato uno che aveva tanta più esperienza non era un fighter chissà che non è che aveva questo stile chissà che aggressivo quello chissà che però nel controllo era forte una grande esperienza nel controllo e fa un match cosa intendi nel controllo? mi teneva mi ha portato giù guardava guardava sempre che passasse il round nel secondo round ho quasi un momento dove nel primo nel secondo c'è quasi un momento dove lo finisco però si aggrappa riesce a sopravvivere e niente vince per decisione era anche un po' più grosso comunque aveva molta più esperienza insomma adesso se lo ribeccassi adesso sarebbe completamente un'altra storia però al momento era un po' presto era ancora un po' troppo verde cosa vuol dire essere verdi? è un pochino ancora acerbi? acerbi ok quindi perdi il match perdo il match come stai a livello emotivo quando perdi un match? perché sei così tanto in gaine determinato per l'obiettivo e quindi quando perdi come vivi quell'istante cioè quell'istante quel periodo a parte che c'è proprio degli studi dove hanno tipo testato delle persone subito la persona che ha vinto subito dopo la persona che ha perso tipo i livelli di testosterone sono opposti quello che ha vinto sono altissimi quelli che ha perso sono bassissimi quindi ovviamente di base sei uno schifo sei uno schifo poi soprattutto quando metti tutto te stesso nel preparare qualcosa poi va male per forza io ho ancora probabilmente di più perché non lo metto proprio in conto di perdere e quindi e quindi ti arriva un palazzo ti crea un palazzo in testa metti un po' tutto in discussione però io ho questi momenti dove quando perdo poi dopo faccio sempre un saltino avanti capito e nel senso che dai una lettura costruttiva per crescere per maturare cioè se anche infatti magari mi accusano di essere arrogante così ma non è vero sono tanto autocritico dico sempre che alla fine più severo con me stesso sono sempre io e chi mi è veramente attorno lo sa questo e perdi quel match poi che succede? perdono il match e niente appunto dopo dico perché comunque anche fare avanti e indietro è uno stress pazzesco perché ogni volta organizzarsi in maniera diversa quindi da lì in poi mi trasferisco cioè mi trasferisco completamente in America dico vabbè due soldini secondo me per riuscire a sopravvivere ce li ho comunque hai sempre risparmiato tu anche che sia poco medio o tanto non sono mai stato scemo con i soldi cioè non è che sono tirchio ma non è che spendo e spando non è che dopo il secondo match in un UFC mi sono comprato la macchina certo infatti che non potevo il Ferrari ma neanche diciamo non so Range Rover subito così tutto cash quindi li hai tenuti per vivere lì li ho tenuti sì per investire nell'allenarmi ancora nel tuo sogno 22 anni prendi vai a vivere in America vado a vivere in America come funziona lì con il visto tutto c'è come il visto l'ho fatto già prima per il primo match in UFC mi fanno il P1 e col P1 è per professional e puoi lavorare in America quindi quindi mi trasferisco e comincio a stare lì e poi la mia carriera è un po' così e poi dopo invece faccio il salto è un po' così vuol dire che per un po' non ci sono incontri c'è cos'è che tentenna nella tua carriera cosa non sta funzionando in quel momento no beh perché poi no poi dopo vinco poi dopo mi danno un match anche lì parecchio duro sempre un match ogni tre mesi? sì 4-5 e prendevi sempre 10.000 per partecipare 10.000 se vincevi era sempre no perché poi se vinci vai su se perdi invece resti lì poi dopo firmi altri contratti quindi poi cominciavi a salire ma non ancora a quell'età no no sì salivo sono salito perché poi dopo ogni tre match ho firmato ma non è mai stato un problema per me perché comunque il modo che combatto è sempre piaciuto e bene o male sul fatto del rinnovo non è mai stato nessun tipo di problema anzi perché capisci anche un po' la regola dell'entertainment business no? sì assolutamente cioè nel senso ho sempre avuto anche un bel rapporto cioè non è che sono mai stato privilegiato in nessun modo però anche il fatto cioè non ho mai sbagliato il peso non mi sono mai ritirato poi insomma faccio sempre dei match che che non è che scappo fino all'ultimo respiro esatto e quindi dopo cosa faccio dopo quello che ho perso ne vinco uno poi faccio un altro che ah come dopo questo ceceno pazzo ci spacchiamo di botte e il terzo round vado tanto così per finirlo ci danno un pareggio che è un po' stretto poi quello dopo faccio con l'attuale campione anche lì è un match che secondo me andava a me e invece poi dopo l'ho andato a lui e poi da lì in poi succede una roba che anche lì è stata veramente pesante perché quanti anni hai? ce n'ho 24 forse e succede questo fatto che praticamente ormai tutti se lo sono bene o male dimenticato però è successo è stato bello pesante perché praticamente mi chiamano io avevo un match in programma mi stavo preparando e mi chiamano e mi dicono ah il mio manager che poi al tempo l'avevo già cambiato ha appena cambiato anzi e mi fa e non è quello attuale è un altro ancora sì mi fa l'agenzia di antidoping ha trovato una sostanza che non era permessa in uno dei test che ti ha fatto io casco dalle nuvole e dico che sostanza è e viene fuori che si chiamava Ostarina non sapevo neanche cosa fosse vado a vedere poi era praticamente 0.10.01 quindi era tipo 1 alla meno 10 grammi però non conta niente se ce l'hai se ce l'hai per quella sostanza lì non ci deve essere nel corpo se c'è è stata immessa in qualche modo quindi ti sei scervellato per capire dove ho provato da dove non la trovano e c'erano altri 5-6 atleti in questa situazione qua fatto sta che nel mentre non potevo competere no? e quindi per quasi 15 mesi non ho potuto competere wow e anche là sono arrivato praticamente ad avere praticamente a chiedere anche dei soldi ad avere 600 euro in banca con 2000 euro d'affitto da pagare e ad arrivare giusto giusto a vincere poi dopo per pagarmi tutto altrimenti sono arrivato a chiedere soldi pochi per fortuna perché anche là mi sono detto o torno in Italia e faccio qualcosa oppure comunque la rischio tutta fino alla fine mi alleno come se dovesse avere un match cioè uso questo tempo in cui non posso competere per migliorarmi e ho fatto così diciamo roll the dice ho tirato i dadi e per fortuna è andata bene perché poi dopo è venuto fuori che per una contaminazione così bassa di questa sostanza qua che è la più comune tra le contaminazioni cioè hanno proprio cambiato la regola e praticamente poi dopo ero innocente io avrei dovuto solo fare 6 mesi ma io 6 mesi li avevo già fatti perché sono stato fuori 15 aspettando una risposta ha cambiato le tue abitudini nel senso non bere nel bicchiere degli altri assolutamente da quel momento che cosa è cambiato PTSD cioè post traumatic stress disorder cioè se mi apri una bottiglietta nella perda di vista non la bevo più anche se mi fanno qualcosa al bar riguardo sempre da dove va se mi alzo torno ne ordino un altro piuttosto cioè tipo adesso integratori che non siano testati da terza parte non li prendo più robe che mi offrono mai neanche barrette proteiche c'è niente quindi sì assolutamente e poi vabbè anche a livello di testa perché comunque è come se uno fa un lavoro e ti dicono tu non puoi più farlo cioè mi sembra di essere in prigione praticamente quasi però insomma anche là 15 mesi e poi dopo quindi hai 25 anni quando ricombatti più o meno sì e poi da là vado cioè faccio tre mesi li vinco tutti e da lì che prendi il lancio da lì prendo il lancio quindi fai un nuovo contratto hai tre incontri li vinci tutti no no c'è ancora il contratto vecchio se non sbaglio e però niente vado poi dopo rifirmo e poi ne ho 25 di fila fino a che poi ho combattuto per il titolo praticamente quanti anni avevi quando hai combattuto per il titolo? un anno e mezzo fa penso che sì un anno e mezzo fa quindi 27 28 forse quando è che cambia la tua vita? cioè quando è perché tutti la mia vita cambia nel 2020 con il match con Hermanson anche là è successo di tutto però in quel momento là perché io non mi sono mai ritirato da un match che è anche fortuna non è fortuna è bravura ma c'è anche una percentuale di fortuna perché così tante cose possono andare storte nell'infortunarsi tutta una serie di cose che c'è una percentuale di fortuna fatto sta che io non mi sono mai ritirato da un match qualsiasi data che loro mi abbiano detto di essere lì io non mi sono mai ritirato a me mi si sono ritirati praticamente 7-8 avversari quindi 7-8 volte ritirati vuol dire prima che prima che il match non viene mai disputato esatto uno il giorno stesso uno tre giorni prima un paio di volte mi hanno cambiato il match quando ti succede vieni pagato lo stesso o no? vieni pagato una volta col covid sono partito ero già a Londra 20 ore dopo che ero a Londra mi hanno detto chiudono le frontiere devi tornare in America e lo faranno in America però mi hanno detto un po' una minchiata perché poi dopo sono tornato in America il mio avversario non è mai venuto in America addirittura ho combattuto a Londra e quindi se fossi rimasto a Londra avrei combattuto in qualche modo quindi di tutto è successo poi pieno periodo covid quindi anche lì pieno di paranoia perché ti testavano due o tre volte prima di andare a Las Vegas che poi dopo ti rinchiudeva in una bolla praticamente e se risultavi positivo non combattevi quindi ogni volta che ti arrivava un test eri in paranoia totale perché magari eri in una settimana del match eri positivo saltava tutto e lo vedevi spessissimo succedere negli eventi lì quindi cosa succede che a due settimane prima a uno gli viene il covid a me mi chiedono se voglio fare con questo che al tempo era numero 5 gli ho detto ovvio sicuramente ho dovuto solo fare degli aggiustamenti sul taglio del peso perché comunque invece che due settimane ne avevo solo una però stavo bene col peso quindi accetto questo uno che forte ovviamente in Europa probabilmente è tra i forze più forti accetto e poi era sui 5 round primo mio main event in UFC a Las Vegas accetto faccio il match bellissimo match dove facciamo ci veniamo per 5 round però vinco in maniera dominante e da lì diciamo scoppio un po' mi pare che anche studio aperto si parla tanto di te si se ne ha parlato come non se ne ha mai parlato prima delle MMA in Italia e da lì cambiano un po' di cose sicuramente tipo quali? vabbè le cose vere non cambiano alla fine la gente che c'è attorno sono sempre gli stessi fino al 2020 però faticavi a livello di soldi a livello di tutto te lo chiedo perché dall'esterno sembra che tu abbia sbarcato il lunario però poi magari invece la fatica è ben diversa no no sbarcato il lunario sì lì sbarco il lunario mi ricordo che chiamo mia mamma e faccio mamma ti compro la macchina addirittura cambia così sì perché gli ho detto ma mi ricordo che là mi pare che ho fatto 150.000 dollari una cosa del genere con quel match con quel match lì e quindi poi rinnovi il contratto a una cifra molto più importante e poi dopo lì mi pare che no lì l'ho appena rinnovato però poi ne rinnovo un altro insomma dopo però da lì in poi cambiano le cose da cosa guadagni oggi? dagli incontri ma brand sponsor cioè quali sono le tue fonti di guadagno? ma le mie fonti di guadagno sono primariamente i match e poi dopo è la fonte principale sì primariamente i match poi vabbè il mio business che è The Italian Dream un tuo brand personale un tuo brand un tuo brand vuol dire che c'hai un distributore l'hai licenziato a qualcuno che lo commercializza o e-commerce come lo vendi il prodotto? no adesso come adesso è e-commerce però adesso secondo me a breve avremo allarghi vai sul retail vai sul punto vendita sì 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 penso proprio di sì nei prossimi due o tre mesi riusciremo ok e quindi così poi sponsorizzate social sì praticamente social sei rimasto attento alla cura del denaro come quando non ne avevi o adesso scialatti un po' di più? adesso ho cambiato tutto poi c'è per per forza di cose più ne fai più ne spendi per forza perché devi dimostrare che sei diventato grande quindi hai un tenore di vita che si alza ma allora certe cose non avendole mai avute te le vuoi godere altre per forza di cose proprio di default perché tipo i coach vanno pagati a percentuali no? quindi se prima li pagavi su 20.000 euro poi dopo li paghi su 10 volte tanto paghi 10 volte tanto tasse e tutto cioè beh è proporzionale è proporzionale quindi ovviamente te ne escono poi vabbè macchina magari però li ho sempre investiti vivi ancora in America sì sì vivi ancora in America dove? Huntington Beach sempre e poi vabbè ma io li ho sempre investiti i soldi alla fine e quindi di base poi ci sono sempre delle idee che bisogna sempre dare il giusto valore ai soldi prima non ne avevo volevo investirli per farne di più e quindi me li risparmiavo adesso ho 28 anni è giusto che tante cose me le permetta voglio dire allo stesso tempo bisogna sapere quanti ne puoi spendere perché comunque non è che posso avere il tenore di Elon Musk c'è dico sempre non è che io ho fatto i soldi i soldi veri sono completamente altri però in confronto ad uno che fa l'importante è che fissi già la percentuale di quello che guadagni destinato al risparmio così non sbagli mai e lo ricalibri ogni volta ma almeno non rimani mai a secco perché tu sì beh qualcosa se guadagni 100 esatto se per mantenerti ti costa questo e guadagni sempre molto di più devi destinare una cifra che ogni mese dici ogni volta che ti entra quella roba lì non la tocco e per domani però è difficile io non guadagno al mese è ovvio e quindi entra è più disordinato è molto disordinato quindi di avere un po' un computer che è un po' più elaborato in testa secondo me però insomma no dai io poi sono sempre aperto a tutto a livello di business il valore del contratto perché tutti abbiamo l'esempio di McGregor più o meno anche chi non segue sa chi è nel mondo e parliamo di milioni da cosa è determinato questo da quanto pubblico da quanta pay per view cioè da quanto genera l'indotto di un suo match esatto dall'everage che ha nei confronti della corporation quindi se tu lavorassi a livello social per accrescere ancora di più la tua popolarità vorrà dire che ne convertirei di più che verranno a comprare un tuo match e quindi farei gira ancora di più il business però non è direttamente proporzionale quanti ne hai sui social a quanti per più e più vendi capito quindi però sì sicuramente più persone ti conoscono e più gira la macchina sì sì assolutamente e anche lì tutto saper riuscire ad attirare la gente a guardare i tuoi match no? e quindi tutto un discorso di pay per view però anche lì per essere una star che si possa permettere di fare una pay per view non è facile cioè in UFC sono pochi quelli che fanno girare quelle economie lì? sono pochi sì e di solito devi essere il campione e anche lì di aver difeso tante volte o se no devi essere una star che cioè per dire io non ho ancora tirato le pay per view mai nella box magari sarebbe un po' diversa no? però la UFC è sicura sempre di essere lei leiside no? cioè essere sempre loro più grossi dell'atleta poche volte è successo che l'atleta era quasi più grosso allora io sì forse forse per un periodo come Gregor e lì allora ti siedi al tavolo alla pari no? altrimenti non ti puoi siedere al tavolo alla pari con loro sei passivo cioè nel senso che puoi tirare ma appena ti dicono tira tira però il timone ce l'hanno loro e quindi accetti e quindi c'è ha sempre il coltello dalla parte del manico no? da un certo punto di vista esistono altre federazioni concorrenti o è monopolista? no esistono però non sono così mainstream sì no magari beh adesso ce ne sono però non sono la testa di serie cioè tu se vuoi essere il numero uno affermarti il numero uno devi essere il campione della UFC tu sei riconosciuto come il numero uno al mondo in assoluto se sei il numero uno della UFC e quindi se uno è lì per diventare il numero uno deve stare in un UFC e ci sono quelli che invece si andano a compromessi e dicono vado da un'altra parte mi danno molti più soldi magari divento campione di quella comunque divento grosso chi se ne frega di essere il numero uno in assoluto faccio il triplo però sono scelte che una persona deve fare deve capire sicuramente quando magari vedi che la tua carriera prende un certo tipo di strada magari fai così io per come sono non no cioè io per come sono se vedo che non posso entrare il numero uno probabilmente non sono neanche motivato ad andare avanti quali sono i tuoi obiettivi futuri il tuo sogno era entrare in UFC oggi qual è? vincere la cintura e portare la UFC in Italia o uno o l'altro prima o dopo non cambia cosa vuol dire per te portare la UFC in Italia la conoscenza di o combattere in Italia? un evento UFC in Italia tuo? sì che la UFC venga in Italia faccia un evento che non è mai successo ah ok questo non lo sapevo quindi quello e parliamo del mondo femminile ah come sei messo a donne è incasinato perché con la distanza col vivere di qua col vivere di là è un casino cioè ho sacrificato un sacco di relazioni anche con ragazze che magari se fossi stato qua ci potrebbe essere stato un futuro perché per la distanza perché in America non hai mai trovato una persona con cui hai intratto una relazione seria? è difficile cioè comunque quando faccio un camp cioè devi creare una relazione con una ragazza per quanto mi riguarda nella mia vita che veramente quando poi dopo entri in camp si deve dedicare tanto a te o perlomeno ti deve lasciare tanti tanti spazi e non è facile cioè è sempre più difficile nel giorno d'oggi poi io sono uno che non scende a tanti compromessi dico la verità cioè lo dico sempre se ci penso in un certo senso la mia vera prima relazione il mio primo vero amore è sempre stato con l'MMA cioè io ho sempre dedicato tutto all'MMA e quindi tante volte quando le donne si sentono messe in secondo piano dopo un po' cioè per un po' lo vedono come un giochino e magari cercano di voler loro magari arrivare loro in primo piano poi quando vedono che comunque c'ho la testa dura come il cemento si stufano anche e non cioè non le biasimo nel senso che non può essere solo le relazioni si fanno in due non solo da una parte quindi tante volte sono andate sono andate a scemare le cose poi c'ho sempre le mie idee che insomma da uomo non puoi lasciare che il cuore ti controlli tante volte se prendi un'ecisione deve essere quella anche se è dura e anche se fa male e quindi c'ho la testa dura c'ho la testa dura e se poi dopo le cose non vanno come vorrei che andassero mi rifugio nell'allenamento mi spacco di allenamento e chiudo e quindi tante volte sono andate a perdersi un atleta fino a che età combatte se in salute in MMA ma sai che veramente cambia tanto ci sono tanti casi per dire secondo me non è tanto l'età è più come si dice il mileage cioè quanti miglia il chilometraggio cioè perché se io che conosco sono partito presto relativamente presto pare vent'anni al top vent'anni a tutta è difficile magari cioè io non mi vedo arrivare a 36 37 anni a combattere per dire però dico sempre che non lo decidi te cioè ci sono tante cose che subentrano anche a livello psicologico e magari qualcuno le accetta magari qualcuno no e boh anche a livello monetario diciamo che l'apice secondo me lo hai sui 31 32 e poi dopo i 35 quasi sempre c'è un calo sì chi è il tuo mito nel mondo della UFC che sia ancora un combattente oggi o che lo sia stato in passato ma miti no il tuo esempio il tuo esempio assoluto dove dici lui veramente per me è il top dei top adesso come adesso non ce n'è uno anche perché sono lì e quindi non no il mio mito diciamo se c'è un mito è quello che ho visto per primo quando ero piccolino ho visto Fedor Emiglianenko poi mi puoi chiedere ci sono tanti bravi fighter dal quale prendo sicuramente e ho preso nel passato però mito come si è messo nel ranking mondiale adesso sono il numero 3 o il numero 2 penso numero 2 numero 3 non so nella tua categoria di peso nella mia categoria di peso tanta roba sì dai vorresti un altro numero no vabbè ci sta ci sta nel senso che è un buon punto ma non è il punto d'arrivo cioè è comunque un punto di partenza nel senso per dire adesso ho appena perso l'ultimo match con quello davanti a me quindi con il number one contender poi c'è il campione subito davanti e mi faccio una critica e dico che devo ancora evolvere è quella cosa che ti lascia ogni sconfitta per crescere e quindi sì ma se poi diventi il numero uno nella tua categoria di peso l'obiettivo successivo è cambiare categoria di peso o difendere sempre il titolo difenderlo all'inizio è difenderlo poi dopo quando veramente vedi che ti affermi top li hai battuti tutti magari puoi fare dei super fight con un'altra categoria per concludere c'è una persona magari non è più in vita non ci parli più che avresti voluto che vedesse la tua evoluzione che fosse proprio orgogliosa di te mio nonno sicuro mio nonno che insomma se n'è andato tanto tempo fa e sì se fosse qua sicuramente sarei contento che fosse qua avesse visto che perché io me lo sono vissuto un po' poco cioè non poco l'ho vissuto anche tanto ma poi avevo 13 anni quando è morto e e non insomma mi dicono sempre che sono come lui no e lui era il tuo primo fan credeva in te ma non avevo ancora cominciato a 13 anni avevo però già da ragazzo diceva sì sì no era come me era una bella testa calda come me però buono come il pane come si chiamava e Remo nonno materno paterno 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 bella Marvin abbiamo fatto un super viaggio mi ha insegnato e spiegato cose che non sapevo assolutamente e sei veramente una bella persona ti ringrazio di cuore grazie mille 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 grazie mille